Musica Hello guys, Rangeland here e benvenuti in questo nuovo episodio qui sul mio canale siamo sempre qui con la Technic Pack sto registrando subito dopo l'altro video quindi non ho ancora risolto qui ma ho creato un macello ma davvero un macello di Block Breaker ne ho fatti 60 guys intanto qua riempiamo un po' riempiamo un po' ok, ok, perfetto mi ero messo in Peaceful perché stavo costruendo adesso ci rimettiamo in Normal sì, perfetto allora, abbiamo bisogno di una cosina qua allora ci serve ci serve, ci serve cosa ci serve guys? ci serve oddio un Ender Chest un Ender Chest perché ho fatto l'impiantino adesso lo andiamo a a sperimentare allora ci servono ce ne servono due giusto? due, sì quindi ci serve due quattro pezzi di ossidiana ok poi due chest due pezzi di lana due pezzi di lana due pezzi di lana eccole qui poi ci servono due chest quindi 16 di questi qua 16 di sotto quindi 16 perfetto mettiamo un po' a posto quattro blades quattro blades quattro otto blades ce ne servono giustamente perché dobbiamo raddoppiare abbiamo il crystal ball pieno pieno quattro blades otto sette otto perfetto otto blades lo facciamoci un attimo le chest ci togliamo un attimo un po' di roba da mezzo perfetto poi otto blades perfetto poi due ossidiane una di queste e poi cosa serve? un enderpearl serve ragazzi un enderpearl enderpearl ne abbiamo giusto due ne abbiamo giusto due però ce la scoprezziamo io direi perché mi sembra che è tipo tostob prenderla da qui quindi ce la scoprezziamo non fa mai male perfetto queste le mettiamo a posto qui via e abbiamo fatto le nostre due ender chest ci facciamo allora non mi ricordo la nostra di casa è bianca 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 questa è rossa bianca bianca quanta gente che c'è qui papparero pappapì andiamo a vedere allora a questo punto rosso bianca bianca facciamo arancione bianca bianca non abbiamo ah si ce l'abbiamo arancione arancione bianca bianca quindi le piazzichiamo un attimino facciamo così diciamo arancione e arancione perfetto sono vuote quindi sono sole solette io direi di muoverci ciao creepy ciao creepy non so se faccio prima correndo oppure no mi sa che faccio prima correndo va questo è il salto della nostra ultra suite grazie sarebbe il salto che ci fa fare la nostra tutina tutina nanosuite come la volete chiamare no la quantum la è la quantum questo è la quantum mi imbroglio sempre perché in realtà si chiamerebbe nanosuite eccolo qui allora vedete qua c'è un dungeon dopo lo veniamo a esplorare e abbiamo fatto questo impiantone gigante di cobblestone guys cobblestone si 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 poi lo chiuderò forse allora qui ho già preparato tutto come potete vedere timer bla 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 qua ho messo anche il coso ci dobbiamo mettere solo la nostra android chest la nostra android chest allora quasi quasi io inizierei anche già a farlo andare l'ho fatto lontano da casa per non laggare guys io lo farei andare a 300 via 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 perché sennò la chiamo come una schifosità schifosa e dobbiamo andare a casupola adesso metteremo questa chest al posto della chest che sta vicino al recycler per far andare la roba nel recycler penso spero di essermi spiegato fa un botto un botto un botto di cobblestone quella roba lì e visto che ce l'abbiamo dedicata penso che appena ogni volta che avrò voglio di andare a fare il tutto ciò andrò lì e aggiungerò una fila di 10 block breaker allora fatto questo qui cosa c'è della merda che ci prendiamo la rompiamo perfettamente perfetto poi guardate 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 come arrivo è una cosa schifosa una cosa davvero schifosa ok vediamo se ha 10 secondi giusto poi si è fermato a a a a aia aia è troppo lontano non mi carica il chunk e come facciamo e come facciamo il chunk loader qui non c'è questa è una bella inculeita mi sa che devo spostare tutto l'impianto più vicino cazzo e io che l'avevo fatto a posta lontana per non far laggare lo schifo di mondo perché perché guys fa un sacco un sacco di un sacco un sacco di cobblestone e quindi ovviamente sono un sacco di cose che ci vengono e vedete troppo lontano dovevo farlo qua avevo scelto il deserto perché nel deserto vabbè trasformavo tutta la sabbia in stone con la philosopher ma più che altro perché era pianeggiante avevo tutto la spazio per farlo cazzo così è effettivamente troppo lontano così è effettivamente troppo lontano vedete che non va vedete che non va vedete che non va vedete che si è proprio bloccato che cazzo le è successo oh che cazzo le è successo scusate sono caduto nel allora guardiamo ma sti zombie che bussa alla porta ciao bello ciao si anche io ti voglio bene ciao mamma mia mamma mia sempre che chiedono attenzione questi qua che cazzo è successo perché non vanno più si sono impallati i block breaker forse puttana ladra devi crepare creeper di merda davvero 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 devi farvi una brutta fine se l'ho capito io che cazzo è successo qui purtroppo l'ho capito io l'ho capito io che cosa è successo si sono bloccati i block breaker eh perché si sono bloccati i block breaker adesso vi faccio vedere allora facciamo così eh spegniti dobbiamo dobbiamo mi sa che li dobbiamo togliere il problema è proprio che poi li dobbiamo rimettere però ecco questa casca d'acqua ovviamente qua io sono pieno ovviamente adesso facciamo così ovviamente questo è girato dovrei girare la sua caccia vite eh guys devo sistemarlo io mentre non siamo in in live purtroppo sono cose che possono succedere e allora mi sa che questo impiantino qua funziona eh guys perché funziona io l'avevo provato prima e andava tranquillamente però è troppo lontano da casa quindi devo prendere e spostare tutta questa roba qui vicino a casa molto semplicemente eh ma va allora intanto io ho fatto vedere com'è fatto l'impianto ma è una cosa che già conoscete ci schiaffiamo un po' di di exp chi è chi è scusa 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 ok ok no guys sono sono arrabbiato quindi uccideremo tutti sì no perché mi ero mi ero applicato tanto per fare quel tutto questo popò di impianto e poi non funge poi non funge sì devo prendere in pratica in pratica praticando devo blocare devo togliere tutto vedete che l'ha girato devo togliere tutto devo togliere tutto lava e acqua compresa voi pensate quanti secchi di lava mi sono dovuti portare appresso ogni volta per fare tutta sta tutta sta cosa devo spostare tutto questo impiantino qui vicino casa così che venga caricato e ci faccia tutta la nostra bellissima bla 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 sta un Uccidiamo questo creeper Per chi mi sta antipatico E anche con gli stidu Questi tre per chi mi sono antipatici Più del creeper Via Ok Eh guys Io volevo farvi vedere una cosa funzionante In questo app Ma Ma non c'è stato possibile Penso che adesso ci scaviamo Diciamo così Iniziamoci a prendere tutti Tutti i nostri bellissimi block breaker Ci togliamo questa ghiaia qua Che cazzo eh Ghiaia Via Via anche questa Ci servono Block breaker Block breaker Ok perfetto Adesso facciamo così Guardate Ci ritogliamo tutti quanti Tanto sopra ci sta Ehm Ci sta La La cosa lì La Come cazzo fa a esserci ancora acqua Dai Ah Ci sta Ci sta Ci sta La cobblestone Che ci toglie La lava Dalle palle In teoria Quindi se Non facciamo cazzate Ehm Riusciamo tranquillamente A togliere il tutto Allora Diciamo così Mettiamo un po' di cobblestone E via E via Mi sa che lo farò tutto io A questo punto Guys Fuori onda Perché È finito il tempo Mi dispiace Per avervi Mostrato qualcosa Che non funziona Che non funziona Ma io pensavo di Di fare una cosa funzionante Anche In distanza Pensavo che Fosse abbastanza vicino Ad essere caricato Invece c'è anche l'order Ehm Qua in questo mondo Non c'è questa Cosa non ci sono Sarebbero ad aggiungere Ehm Sono una cosa molto utile Vabbè Ehm Vorrei dire Sposto adesso Mi tolgo tutta questa roba Come sto continuando a fare Adesso per ora Con voi E poi Me la porto vicino Casa E Risolviamo il problema Della stone Per il recycle Quindi guys Io vi ricordo Di lasciare un mi piace Al video Un commentino E Ehm Di passare a vedere Anche i miei vecchi video Perché no Almeno vi fate due risate E Ehm Mi raccomando E Il commento È molto importante Quanto mi piace Lo so Di solito Si scrivono sempre Le solite cose Però se avete qualcosa Da dire sul video O qualcosa da chiedermi In generale Fatelo pure Perché Io sono molto contento Se ricevo delle vostre domande Va bene guys Allora vi rimando Come ho già detto A prossimo video Da RendiRen è tutto Enjoy E che la renna sia con voi Bye bye